Ciao bimbi, oggi insieme alle mie due piccole aiutanti faremo una ricetta magica, la ricetta di un gelato che si fa senza la mazzina di gelato. E' il gelato del giambolo, la ricetta ce l'ha data la nostra amica Margherita e la staggia, guarda se è buona, buona? Posso usare? Ok, posso vedere la città? Le darò in 300 minuti, ok, via! Ci presti gli ingredienti che ci servono, per favore? Ci dici tu? Ciao Deborah, ma che bellissima idea! Sì, che bello, dai, vi aiuto io a fare questo gelato. Bimbi, mi aiutate anche voi? Per prima cosa dobbiamo pulire le fragoline e tagliarle a pezzettini. Spremiamo mezzo limone e poi aggiungiamo lo zucchero. Adesso aggiungiamo la panna e frulliamo il tutto. Adesso il nostro gelato è quasi pronto, però devo andare in freezer a riposare per un po'. Sarà pronto il nostro gelato? Andiamo a controllare, anche perché il nostro draghetto ha molta fame. Vediamo. Allora, l'abbiamo messo in freezer per un sacco di ore. Sì. L'abbiamo mescolato. Cosa dici? Sembra molto buono. Allora, adesso le facciamo assaggiare un po' al nostro draghetto. Ci pensi tu a darglielo? Sì. Mmm, che buono! Allora adesso questo lo lasciamo al draghetto e il resto? Ce lo facciamo tutti noi. Ciao, bimbi! Ciao, bimbi! Ciao, bimbi! Grazie.